E' chiaro che noi volevamo chiudere gli spazi, la squadra è stata anche brava perché il primo gol è un gol di giocatori di fuoriclasse, per cui se penso a Montipò, forse mi ricordo una parata alla fine di Ilicic, per cui la squadra difensivamente ha fatto molto bene, quello che dovevamo fare, chiaro che offensivamente potevamo fare di più, ma loro giocano uno contro uno, hanno dei difensori che è difficile affrontare, l'Atalanta l'anno scorso rischiava di arrivare in semifinale di Champions, per cui stiamo parlando di valori, non è questa la partita che probabilmente doveva darci punti, ma doveva darci consapevolezza dopo la partita col Cagliari mentalmente che la squadra ci fosse, la squadra c'è, ha lottato, ha dato tutto quello che aveva, probabilmente l'occasione di Barba del primo tempo dell'1-1 era botta sicura, ha preso un giocatore penso sulla spalla e sarebbe stato probabilmente gol, e quello ci poteva dare linfa a forza, la squadra sul 2-0 anche in uno in meno ha cercato di andare a fare 2-1, è una squadra che in questo momento ha coraggio e viva, questa è la cosa più importante, è chiaro che adesso è venuto il momento di vincere, non possiamo pensare ad altro, per cui dobbiamo vincere le prossime due, sono squadre alla nostra portata, la squadra ci crede, perché se no dopo quello che è successo col Cagliari oggi contro dei giocatori così, che secondo tempo ha messo Ilicic, passa, ci hanno dei cambi assurdi, puoi prendere 5-6 gol, invece la squadra comunque ha lottato, ha dato tutto quello che aveva e questo mi lascia ben sperare. Sì, sì, no, ma adesso dobbiamo pensare a vincere e basta, è chiaro che io penso che se si gioca con questo spirito, si fa la partita, se si ripete la partita col Cagliari, poi dopo il campo deve darti anche ragione, perché se una squadra crea non può sempre trovare il portiere avversario come ha fatto col Cagliari migliore in campo, prima o poi andrà dentro, io penso che dobbiamo avere convinzione, voglia di farci, noi domenica dobbiamo vincere e poi sappiamo che andiamo a giocarci tutto a Torino, ce le siamo giocate già con queste squadre all'andata, sappiamo che ce le possiamo giocare, quelle sono le nostre partite alla nostra portata, non dobbiamo sbagliare niente, però la squadra è viva e secondo me questa è la risposta più importante di oggi. Vale tutto, è importante, insomma noi dobbiamo vincerla, la prepareremo nel migliore dei modi, insomma faremo giocare qualche giocatore fresco che stasera ha riposato, è una partita importantissima, noi dobbiamo vincerla per noi, per i nostri tifosi, per la società, perché dobbiamo arrivare all'ultima e sperare, sperare di potercela fare, io sono molto fiducioso e mi auguro che succeda quello che sogniamo. Insomma ci sarebbero tante, ma io non vedo sinceramente una squadra molto preoccupata, perché se fosse una squadra preoccupata non avrebbe fatto il primo tempo del Cagliari, è chiaro che col Cagliari pesa il fatto che hai preso due tiri in porta e tre gol, questo pesa, questo pesa, tu ne hai fatti 7-8 e Cragno ti ha fatto 3-4 parate importanti, lì devi essere più bravo, però probabilmente sull'occasione di Schiattarella del 2-1, se fosse entrata, probabilmente anche psicologicamente, anche il campo, se certi episodi ti vanno a favore, ti danno più fiducia, però noi dobbiamo essere bravi a mandarli a favore dalla nostra parte, con determinazione e voglia, per cui quello che cercavo oggi, al di là che poi uno spera sempre di fare punti, ero curioso di vedere la squadra, insomma tutto quello che era successo a livello nervoso, la squadra a livello difensivo ha fatto bene, bene, contro attaccanti straordinari, insomma che sono molto forti, ma la squadra paradossalmente non ha sofferto, è chiaro che loro ti imbucano sempre, devi sempre stare stretto, devi fare filtro, i centrocampisti hanno fatto una grande partita, i quinti, è chiaro che le due punte hanno fatto un lavoro di sacrificio, ed era difficile giocare contro Romero e Palomino, uno contro uno, sono prestanti, per cui io sono molto fiducioso, ci credo, la squadra è viva, andiamo avanti e domenica dobbiamo dare una grande risposta in campo, come abbiamo fatto con il Cagliari, perché avevamo già giocato a 4 all'andata e ci siamo dovuti mettere a 5 a fine primo tempo, perché è impossibile, insomma con solo 4 difensori, con i loro tagli, non riesci a tenere contro giocatori così forti, infatti difensivamente abbiamo fatto un'ottima partita, e poi perché insomma Insigne e Caprare, Caprare era riuscito con i crampi, non era pronto per giocare dall'inizio, Insigne volevo tenermelo come cambio, perché se fossimo rimasti in partita avrei potuto soffrire, dal momento che gioca Gaic, non puoi fare altrimenti Gaic alla Padula e giocare con le due punte, per cui anche questo. Beh adesso Letizia avremmo tutti voglia, io per primo, di farlo giocare, però è un giocatore che si è fatto male, insomma è fuori da 90 giorni, c'è bisogno di prudenza, adesso non so se domenica c'è, cioè lui non si sente ancora pronto per giocare, lui vorrebbe perché è un ragazzo straordinario, che giocherebbe anche con una gamba, come ha fatto oggi anche la Padula, che aveva preso una botta, qui stringono tutti i denti, adesso vediamo, vediamo, qualcuno l'abbiamo risparmiato, Ionita aveva dato tantissimo, Dabo ha fatto un'altra buona partita, insomma i difensori hanno avuto grande spirito, mi dispiace per Caldirola, perché oggi i tre difensori hanno fatto una grande partita, hanno avuto spirito, hanno lottato. Adesso vediamo, vediamo di capire quali che sono più freschi, ma io non penso fisicamente che la squadra sta bene, comunque ha dei cambi importanti in questo momento, al di là che ci mancano Sao e Iago Falke, che soprattutto con il Cagliari ci avrebbero dato anche dei cambi importanti ad averli, però ormai non possiamo più guardare a quelli che non ci sono, dobbiamo guardare a questi che abbiamo, e dobbiamo fare una grande partita e prenderci tre punti, e poi vedremo cosa succederà all'ultimo.